Siamo allo sport e calcio, parliamo della Pescara dopo la conclusione, il giorno dopo la conclusione del campionato terminato, purtroppo con la retrocessione in Serie C, il presidente del Delfino Daniele Sebastiani ha pubblicato un messaggio ai tifosi sul sito del club, ve lo leggiamo integralmente, indietro non si torna ed è inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento infelice per i colori biancazzurri che ci vede dopo 11 anni tornare in terza serie a fronte di una stagione difficile, travagliata e deludente ma soprattutto pregna di scelte sbagliate, il mio primo pensiero va a chi lavora quotidianamente per mantenere acceso il motore della Pescara Calcio, i nostri dipendenti, collaboratori e i tanti istruttori e accompagnatori impegnati giornalmente nei nostri settori giovanili che non meritano certo di vedere svanire anni di lavoro frutto di amore e dedizione, i nostri tifosi certamente arrabbiati ma che mai ci hanno lasciato da soli nonostante una pandemia in atto o una crescente amarezza sul campo. A tutti voglio dare la mia rassicurazione per il futuro, abbiamo una società sana pronta ad iscriversi al prossimo campionato, in grado di allestire una compagine competitiva per cercare una pronta risalita. Cercheremo di portare avanti i nostri progetti giovanili e le tante iniziative oggi in atto, la creazione e la gestione di nuovi centri utili soprattutto per alimentare questa fiamma di appartenenza comune a noi tutti. Infine sento il dovere di scusarmi con tutte le persone che amano davvero questi colori per la situazione che stiamo vivendo, per la delusione e la rabbia. Ci tengo a dire che da principale responsabile del nostro amato Delfino nutro il vostro stesso sentimento ma nonostante questo enorme peso oggi non posso permettermi di alzare bandiera bianca. Le delusioni spesso aprono gli occhi e da questo oggi si deve ripartire, cercando di rimediare ad errori e chiedendo a voi tutti di stare vicini ai colori biancazzurri. Questo è il messaggio del Presidente Daniele Sebastiani.